Uno dei capitoli di Supernova racconterà la dolce vita romana in salsa grillina. Noi siamo partiti, io c'ero, da molti, moltissimi parlamentari che dividevano l'appartamento, che andavano a dormire dalle suore, che stavano in 30 metri quadri. E poi le cose evidentemente sono cambiate. C'è chi è rimasto dalle suore e c'è invece chi ha cambiato indirizzo. E questo, se mi permettete, è stato uno dei più grossi insulti alla memoria di Gianroberto, che invece viveva davvero, questo mi consta perché ci siamo conosciuti a lungo, insomma. Era un vero francescano. Ecco, per esempio con la questione dei rimborsi, per esempio. Sì, quando tu racconti di queste cose, mi fa venire in mente, e di nuovo qui spendo la carta della mia età, i vecchi democristiani e comunisti che facevano così. Tu sai che i Dorotei nascono dal nome di un conve, cioè arrivavano qui e campavano in questo modo. Poi poco alla volta hanno scoperto che, per esempio, c'era la meravigliosa macchina dei rimborsi spese, alla quale apparentemente anche i deputati e i senatori 5 Stelle hanno cominciato ad attingere ai rimborsi. Perdonami, direttore, però noi non dobbiamo ridurre questa sconfitta a un mero discorso di soldi. Io non ne posso più di sentire parlare di soldi dentro il movimento e intorno al movimento. Soldi e visibilità personale sono stati due virus che hanno immediatamente attanagliato il movimento. Ma noi non possiamo giudicare questa esperienza comunque straordinaria. Io penso che il grillismo viva nelle vene degli italiani, nel bene e nel male. Ma noi raccontiamo anche il fallimento politico, uno su tutti, la mancata crescita di una classe dirigente. Una volta disse a Gianroberto, se noi permettiamo che i parlamentari candidino ad altre elezioni, i loro portaborse, i loro parenti, i loro amici, questo sogno è morto. Deppe Grillo, infatti, scrisse pochi giorni dopo questo mio sfogo con Gianroberto, un PS indicativo sul blog, poco prima delle elezioni europee. Non saranno tollerate cordate. Qualcuno se ne è fregato altamente. E infatti abbiamo una parentopoli gigantesca che tradisce lo spirito del movimento. Ecco, ma gli iscritti però, gli attivisti, militanti, quelli che ci stanno coprendo di insulti, queste cose non le sanno? No, no, le sanno benissimo. Una delle mutazioni che noi racconteremo è che il movimento dei cittadini, io sono fra quei 9 milioni di persone che l'ha votato, è diventato il movimento dei fan, dei follower. Che vuol dire che non c'entra niente con la politica. Non c'entra niente. Ecco, visto che tu avevi dei rapporti diretti con Gianroberto Casaleggio nei momenti, diciamo, di nascita e di crescita, la famosa polemica sulle faccionate televisive, la partecipazione alla televisione. Cioè, alla fine, chi è che si rassegnò tra Grillo e Casaleggio a mandare questi personaggi che poi un po', secondo me, questa è la mia opinione, gli sono un po' sfuggiti di mano, sono diventati dei piccoli idoli, no? Sono diventati delle star di Di Maio. Chi è che ha, alla fine... Cioè, Casaleggio si era rassegnato a questa televisizzazione del movimento? Guarda, direttore, io parlo per la mia esperienza. Io ho litigato molte volte, con molto rispetto, ovviamente, con Gianroberto. Io non sono mai stato un talebano sulla televisione. La televisione bisogna saper farla e si impara, piano piano. È una bestia pericolosa che va domata. All'inizio Gianroberto non ne voleva sentire parlare. Poi, piano piano, è stato anche un po' stoltizzato, e ovviamente non solo da me, siamo apparsi via via in televisione. Una delle cose, poche forse, cose buone che ho fatto è che per me non c'era un inner circle un inner circle che, diciamo, era l'unico che poteva andare in televisione. Piano piano potevano andarci tutti, anche perché sennò... E così evitavamo invidie, gelosie e qualcosa. Ah, appunto, abutilismi, eccetera. Ma adesso... Perfetto. Adesso ci vanno... Adesso è un'altra cosa. Adesso è un'altra cosa. È evidente che un'altra cosa. È un partito drogato di visibilità e di televisione. E non era questo che si doveva fare. Eh, però senza quello non si sarebbero forse avuti i risultati elettorali successivi a quelli del 13 che il Movimento ha avuto, no? In tante città. È cresciuto anche grazie a quello. Ma... Io ricordo invece quando Gianroberto disse non ci faremo imporre il candidato premier dalle TV. Quello fu un segnale molto forte e se io l'ho conosciuto un po', è brutto interpretare chi non c'è più. Ma quello era un segnale. E forse anche con un pizzico di autocritica. E questo gli ha fatto onore. Però c'è un ritorno adesso e poi ti salutiamo perché augurandoti che il tuo libro venda perché io sono favorevole alle vendite dei libri comunque, qualunque sia l'argomento purché non siano delle oscenità. Ecco, c'è un ritorno massiccio di Beppe Grillo sulla scena e lo vedremo anche fisicamente a Palermo tra un paio di giorni. È perché ha visto che gli stava sfuggendo di mano perché faceva... c'è una vecchia espressione che dice fai il domatore di gatti è difficile fare il domatore di gatti. C'è un ritorno, no? Molto forte di... di lui che era un po' stanchino che si era messo di lato. Ma significa molto questo ritorno vuol dire che appunto i problemi che vengono sollevati sono reali perché sennò Beppe sarebbe rimasto a occuparsi della sua famiglia della sua vita insomma e non sarebbe sceso con così forza a riprendere le redini. Poi se queste redini lui riuscirà a riprenderle e come diceva un tempo a resettare tutto sarà una buona cosa. Io credo che la democrazia italiana abbia bisogno di un Movimento 5 Stelle. Probabilmente, sicuramente secondo noi non di questo Movimento 5 Stelle. Vedremo perché sai il problema è sempre quello il movimentismo io ho vissuto quello di altri anni quando poi si avvicina al potere è come la terza rotaia delle metropolitane ci si scotta senti io ti faccio ancora ti ringrazio ti faccio tanti auguri per il tuo libro Ricordiamo ricordiamo perché è supernova potete contribuire al finanziamento di questo libro attraverso il sito Produzioni dal Basso comunque www.supernova5stelle.it con il 5 a cifra Supernova5stelle auguri bocca al lupo ma tu andrai anche a Palermo io vivo in Sicilia per cui certamente seguirò la festa va bene grazie un grande saluto grazie un abbraccio i soldi sono un fattore importante se no non avrebbero avuto tutte quelle questioni sugli scontrini oggi noi non sappiamo effettivamente quanto spendono dalla diaria potrebbero tranquillamente farci la cresta pagarsi le cravate la golf come qualcuno mi racconta senza che i cittadini che controllano la rete possano saperlo perché i giustificativi non ci sono il tema dei soldi è importante perché il Movimento 5 Stelle non ha creato una nuova classe dirigente lei sta dicendo che non c'è trasparenza in realtà sui soldi gestiti dal Movimento 5 Stelle dai parlamentari? assolutamente ma se si va sul sito www.tirendiconto.it che è quello che loro usano per far vedere che ridanno i soldi eccetera uno ci può andare in temporale attraverso internet si accorge che ci sono delle voci generiche senza giustificativi e che poi c'è una voce che si chiama altro che è molto alta per molti parlamentari anche talebani e non si capisce cosa ci stia dentro che è un'altra cosa